è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di circolo di varese l'uomo colpito ieri sera all'addome da un colpo di pistola a viandronno le sue condizioni sono comunque ritenute soddisfacenti dai medici visto che non è stato necessario alcun intervento chirurgico ma solo un drenaggio toracico la sparatoria è avvenuta ieri sera poco prima delle 20 e 30 in via fratelli cairoli dove l'uomo un trentenne di origine nord africana è stato colpito con una pistola di piccolo calibro sul posto si erano immediatamente recati i carabinieri i vigili del fuoco due ambulanze l'elisoccorso che però alla fine è rientrato senza trasportare il ferito ricoverato invece all'ospedale di circolo di varese con l'ambulanza la sparatoria è avvenuta in una zona al confine contra vedona dove al margine della strada si trovano ampi tratti di vegetazione non è escluso che si possa essere trattato di una discussione per cause legate allo spaccio di sostanze stupefacenti anche se da parte degli inquirenti non è arrivata ancora alcuna conferma grazie a tutti